signori buongiorno e bentornati sul canale master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale all'inizio di questa stagione mi ero ripromesso che non avrei fatto l'errore che faccio tutti gli anni cioè quello di accumulare richieste di video fino a che poi non c'è più tempo per farle e all'inizio di quest'anno giorgio gandolfi aveva fatto la richiesta per due video dato che tecnicamente manca più di un mese alla fine della stagione sono passati solo otto mesi da quando ha fatto la richiesta tecnicamente sto mantenendo il mio proposito voi ridete ma io letteralmente c'è una lista di video che lì da anni e non ho ancora trovato il momento corretto per farli avendo finito di parlare di mega dungeon sandbox questo video capita a fagiolo perché ora che avete finito di preparare la vostra ambientazione è arrivato il momento di presentarla ai giocatori e quindi questa settimana andiamo proprio a parlare di come introdurre l'ambientazione ai giocatori sia per rispondere alla domanda sia per vedere le cose da un punto di vista più in generale cominciamo subito dicendo che ancora prima di pensare di presentare l'ambientazione ai vostri giocatori voi come master dovete fare un lavoro di analisi per vedere quali sono effettivamente le informazioni rilevanti che devono essere date ai giocatori prima dell'inizio della campagna e che cosa può essere introdotto successivamente fate attenzione che questo non vuol dire quali sono le informazioni importanti contenute in quell'ambientazione ma quali sono le informazioni importanti per i giocatori che gli devono essere fornite prima di iniziare a giocare perché sono cose che altrimenti non potrebbero assorbire dalla campagna e non gli permetterebbero di seguire quello che succede in gioco e perché sono cose che poi in mente si dà per scontato che gli abitanti di quel mondo immaginario sappiano e che diano per scontate e quindi i giocatori dovranno incorporarle nei ragionamenti che fanno quando fanno agire i loro personaggi l'ambientazione di warhammer 40.000 è probabilmente una delle più vaste complesse che esistono e comprende letteralmente migliaia tra romanzi racconti altre pubblicazioni che vanno ad approfondire nel dettaglio zone geografiche ed eventi storici importanti ma la quasi totalità di queste informazioni hanno a che fare con personaggi e luoghi con cui un personaggio creato per una quest di dark heresy o vratonglory che sono i due principali sistemi di gioco per warhammer 40.000 non avrà mai a che fare e probabilmente non saprà mai neanche che esistono per chi non conosce warhammer 40.000 vi dico solamente che esistono interi canali youtube con centinaia di video dedicati esclusivamente a fare il riassunto di quella che è l'ambientazione e se sta cosa vi ha interessato procedete andarvi a cercare a vostro rischio e pericolo a un ipotetico giocatore che dovesse iniziare una campagna ambientata in warhammer 40.000 senza sapere nulla dell'ambientazione servirebbe semplicemente sapere che il dio imperatore protegge i suoi fedeli la tecnologia è complicata e solo i tre conopretti di marte la sanno usare ed è meglio non fare troppe domande altrimenti l'inquisizione potrebbe venire a cercarti ora prendi il fucile laser e vai a sparare un po di xeno con estremo pregiudizio per la gloria dell'imperium fornire troppe informazioni inizialmente ai giocatori non solo è inutile ma potrebbe rivelarsi dannoso ammettendo che voi teneste i giocatori inchiodati al tavolo per ore raccontando gli dettagli del mondo di gioco in cui andranno a giocare probabilmente poche ore dopo e quella discussione sarà finita loro si saranno già dimenticati più di metà di quello che avete detto e correte il rischio che se avete dato troppi dettagli troppi insieme senza che queste informazioni venissero assorbite organicamente dai giocatori le informazioni andranno a confondersi quindi quel poco i giocatori ricorderanno in realtà sarà confuso e molto probabilmente sbagliato avendo ottenuto solamente di parlare per delle ore a delle persone annoiandoli a morte senza aver ottenuto nulla di questo avevamo già parlato in un vecchio video sull'inutilità di fornire ai giocatori uno spiegone ve lo lascio linkato qua sopra per chi dovesse andarlo a recuperare diciamo che tutto quello che abbiamo detto in quel video si adatta perfettamente anche a questa situazione le informazioni preventive che dovete fornire sulla quest o sulla campagna diciamo quello che dovrete spiegare nella sessione 0 dovrebbe riguardare quelle informazioni che gli serviranno a gestire le prime scene magari la prima quest per qualcosa di più corposo come una campagna abbastanza lunga l'ambientazione che state usando potrebbe contenere decine di regni ognuno dei quali ha una mezza tozzina e città importanti per cui è presente una storia della lore dettagli sugli usi e costumi locali ma se la campagna che voi state portando al tavolo parte con una missione in cui gli eroi dovranno salvare gli abitanti rapiti di un villaggio remoto nell'estrema periferia chi sono gli abitanti di quel villaggio e perché potrebbero essere stati rapiti sono informazioni estremamente importanti anche se magari nello schema generale dell'ambientazione quei rapimenti sono degli eventi del tutto irrilevanti ovviamente nel corso dell'intera campagna potrebbe esserci bisogno che i giocatori imparino molte più cose sull'ambientazione ma queste cose potranno essere introdotte un po per volta nel corso delle varie sessioni o da voi a voce prima dell'inizio della sessione stessa o cosa molto migliore in maniera organica durante la campagna prevedendo queste missioni che servono proprio per esporre i personaggi e di conseguenza i loro giocatori a quel tipo di situazioni e informazioni dopo che i giocatori hanno salvato gli abitanti della città il sindaco della città riconoscente da loro una lettera dicendo di portarla al feudatario locale nel capoluogo di provincia per ricevere la loro ricompensa all'inizio della quest successiva prima che gli eroi si mettono in viaggio magari mentre i giocatori stanno organizzandosi per il viaggio voi come master direte loro qualche informazione su quella città e gli direte che quello è anche il centro della vita politica della regione dove si possono trovare rappresentanti delle varie fazioni politiche dell'intero impero senza stare ad approfondire più di così una volta che i personaggi saranno alla corte del re per portare questa fantomatica lettera verranno coinvolti in un intrigo di palazzo e sarà proprio una quest i cui png più rilevanti saranno gli esponenti di queste fazioni politiche dell'impero in modo che loro possano scoprire quali sono e quali sono le motivazioni delle fazioni parlando direttamente coi png e vedendoli in atto durante la loro campagna dovendo utilizzare queste informazioni per risolvere la loro quest non solo saranno probabilmente i giocatori a andarsene a cercare da soli ma sarà più probabile che se ricordino e se voi avete fatto bene il vostro lavoro quando più avanti in un'altra città comunque più avanti nella campagna si ritornerà a parlare delle fazioni politiche all'interno dell'impero i giocatori o si ricorderanno già bene quali sono oppure basterà semplicemente ricordagli di quella volta che le hanno incontrate alla corte del nobile locale per fargli tornare in mente tutto quello che gli serve diciamo che grosso modo tutte queste sono cose di cui in un modo o nell'altro abbiamo già parlato in vari video delle scorse stagioni qui ho voluto fare un riassunto iniziale nella prima parte del video solo per essere sicuri che chiunque stia vedendo questo video che si è iscritto da anni o che sia appena arrivato che siate tutti allo stesso punto fondamentalmente vedetelo come un esempio pratico del come fornire le informazioni rilevanti ai giocatori in maniera concisa anche se io non sono noto per il fatto di essere conciso il fatto però che abbiate fatto qualche errore nel fornire le informazioni iniziali ai giocatori prima inizio della quest però non è la peggiore delle ipotesi sicuramente potrebbe essere un problema potreste accorgervi nel corso delle varie sessioni che i giocatori proprio non hanno delle nozioni che voi invece state dando per scontato che abbiano o magari abbiano frainteso qualcosa che avete detto in quel caso potete semplicemente fermare la cosa parlare con i giocatori per spiegargli e cercare di capire dove c'è stato il fraintendimento e piuttosto prevedere una nuovo arco di quest una nuova mini quest quello che preferite chiamarla in cui le informazioni corrette o le informazioni mancanti vengono esplicitate testualmente in modo da essere sicuri che adesso le sappiano proprio tutti il vero problema avviene però nel caso come quello della domanda di giorgio in cui non siano un tavolo i giocatori che non conosco l'ambientazione ma sia un tavolo fatto contemporaneamente da persone che l'ambientazione non la conoscono ne hanno una conoscenza molto frastagliata e molto vaga che però giochino assieme a uno più giocatori che invece conoscono in maniera molto approfondita quella ambientazione perché i giocatori che sono chiamiamoli esperti potrebbero anche inavvertitamente cominciare a incorporare la loro conoscenza dell'ambientazione nei discorsi che fanno tra loro nei ragionamenti che fanno fare i loro personaggi fondamentalmente tagliando fuori dal gioco gli altri giocatori semplicemente perché non riescono a seguire quello che il loro personaggio sta dicendo o facendo probabilmente il vostro primo istinto sarebbe quello di zittire quei giocatori o cercare di prenderli in contropiede non lo fate anzi questa è una delle cose peggiori che potete fare se quei giocatori conoscono così bene l'ambientazione probabilmente perché sono degli appassionati di quell'ambientazione sentirsi dire che tutto il tempo le energie che hanno speso per impararla non solo è stato inutile ma anzi è deleterio non farà altro che peggiorare il morale del tavolo non avete idea di quanti master ho visto buttare a monte intere campagne proprio per questo motivo al contrario cercate di sfruttare loro conoscenze a vantaggio dell'intero tavolo non solo per far sentire gratificati loro che l'ambientazione la conoscono ma anche per far vedere agli altri giocatori che sforzarsi per imparare e conoscere il mondo di gioco condiviso potrebbe portare loro alla lunga dei vantaggi facile a dirsi quindi andiamo però a vedere nella pratica come si può fare a concretizzare tutto questo per prima cosa parlate con quei giocatori e valutate quale sia la loro effettiva conoscenza dell'universo narrativo non necessariamente qualcuno che dice di conoscere un ambientazione effettivamente ne ha una conoscenza approfondita o una conoscenza paragonabile alla vostra potrebbe saperne più degli altri ma comunque molto poco o al contrario potrebbe anche saperne molto più di voi sull'ambientazione in quel caso non fatevi problemi a sfruttare questa sua conoscenza superiore anzi magari discutete con lui alcuni dettagli della trama alcuni elementi probabilmente gli farà piacere trovare qualcuno a cui spiegare i dettagli dell'ambientazione così tanto gli piace in ogni caso se avete al tavolo un giocatore esperto dell'ambientazione potreste chiedergli di fornire lui spiegazioni agli altri giocatori per liberarvi dall'incombenza magari voi semplicemente direte che adesso vi muovete verso la prossima città poi lasciate che sia lui a spiegare quale sia quella città e perché sia importante mentre voi sistemate il tavolo controllate le statistiche caricate un nuovo modulo nel vtt qualsiasi altra delle varie centinaia di cose dovete preoccuparsi come master dobbiate fare in quel momento potenzialmente se il giocatore è d'accordo potreste anche trasferire questa superiore conoscenza nell'ambientazione dal giocatore al suo personaggio facendogli portare in gioco qualcuno che abbia delle motivazioni coerenti e plausibile per sapere più cose rispetto alla media degli altri sul mondo di gioco in cui vivono in una quest ambientata nell'universo narrativo di star wars un personaggio che sia un disertore dell'impero che si è unito ai ribelli potrebbe avere un'ampia conoscenza anche dettagliata di quali siano i sistemi controllati dall'impero il suo organigramma la sua logistica e quali siano i png più importanti e magari potrebbe esserci stato mandato a unirsi a quella specifica cellua ribelle proprio perché lui ha queste competenze che i suoi compagni non hanno e dovranno fare affidamento su di lui per sapere quali sono le informazioni rilevanti paradossalmente questo potrebbe anche aumentare molto la verosimiglianza di gioco dato che voi come master non dovreste interrompere la narrazione per spiegare le cose ai giocatori o per permettere a qualcuno di fare un tiro su un'abilità di conoscenze o qualcosa di equivalente per sentirsi spiegare queste informazioni voi vi limitereste a fare un dialogo anche velocissimile in cui viene citato il nome di un png importante e poi sarà quel giocatore durante il gioco stesso a dire avete sentito quel nome quello è uno importante perché e spiegare chi sia quel png all'interno dell'ambientazione se decidete di gestire le cose in questo modo parlate con quel giocatore prima di tutto per assicurarvi che effettivamente lui abbia la voglia di prendersi questa responsabilità perché di per sé diventerà parte integrante del modo in cui il resto del tavolo assorbe l'ambientazione se lui non ha voglia di spiegare non ha senso farglielo fare peggiorereste la vita agli altri giocatori ma anche dall'altra parte per assicurarvi che se ci sia per qualunque motivo delle informazioni che non è plausibile che vengano dette apertamente o che magari voi per qualche motivo volete tenere segrete fino a un determinato momento che quel giocatore magari non rovini la sorpresa per gli altri. rivelando qualche particolare che non avrebbe dovuto dire questo probabilmente il metodo migliore per sfruttare un giocatore che abbia effettivamente conoscenze superiori alla norma al tavolo sfruttando la cosa a vostro vantaggio e facendo sentire lui gratificato di poter mettere in mostra le proprie conoscenze. in questo video io ho trattato le cose solo esclusivamente dal punto di vista del master ma ovviamente non è solamente lui che deve impegnarsi per fare in modo che una campagna scorra liscia anzi. questo è importante sottolinearlo da una parte voi master non partite dal presupposto che voi siate le uniche persone da cui dipendono l'intero destino della campagna il divertimento dei vostri amici. siete un gruppo di gioco di ruolo quindi tutti voi lavorate assieme per contribuire a ottenere la quest migliore possibile. e anche dal punto di vista dei giocatori ricordatevi che il master non è un jukebox le vostre responsabilità non finiscono al presentarvi al tavolo con la scheda in mano e poi qualunque problema se la risolverà il master non siete i clienti di un bar siete i membri di un gruppo di gioco. proprio per questo motivo ho deciso che questo video in realtà sarà diviso in due parti quella che avete appena visto è quella dedicata al master ma settimana prossima ne vedremo una per i giocatori proprio nella rubrica per i giocatori sì ovvio in cui vedremo come possono fare i giocatori terza volta di fila a informarsi su un'ambientazione e come possono venire incontro al loro master per aiutarlo a spiegare l'ambientazione agli altri. per questo video invece è tutto come sempre se avete domande dubbi o perplessità scrivete tutto nei commenti qui sotto e scriveteci anche come voi fate a fornire informazioni ai vostri giocatori se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo chiuso a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al gruppo i telegram al server di discord dove metto io le notifiche manualmente e dove trovate anche il resto della community del master CAE per il resto io sono il master CAE e noi ci vediamo nel prossimo video ciao